Incornato da un toro, finisce in ospedale. La moglie, per sfuggire all'aggressione, è costretta ad arrampicarsi su un albero. L'episodio è accaduto a Felitto, piccolo centro nel cuore degli Alburni, vittima un imprenditore del posto che solo per miracolo non ha riportato gravi ferite. Il 54enne ha dovuto comunque far ricorso alle cure dei sanitari dell'ospedale di Roccadaspide. Nel suo racconto tutto il dramma dell'episodio condiviso con la moglie. L'imprenditore, sabato pomeriggio, era in un terreno di sua proprietà poco distante dal centro abitato. I due stavano svolgendo dei lavori quando improvvisamente è arrivato il toro. Marito e mogli si sono ritrovati, l'animale davanti. I due, impauriti, hanno cercato di allontanarsi per evitare il peggio, ma la situazione è degenerata. Il toro non ha esitato a scagliarsi contro l'imprenditore. Lo ha spinto a terra e trascinato per diversi metri. E poi, fortunatamente, l'animale ha lasciato la presa. Ha liberato il 54enne e si è allontanato. La terribile scena è durata pochi istanti, ma la coppia è sembrata un momento interminabile. L'imprenditore è stato aggredito dinanzi agli occhi della moglie. La donna, per sfuggire alla violenza, è stata costretta a rifugiarsi su una pianta di olivo. Impaurite scosse è rimasta ferma e immobile sull'albero fin quando il toro non si è allontanato. Quando è riuscita a scendere, visibilmente sotto shock, si è avvicinata al marito. L'uomo lamentava forti dolori su più parti del corpo. La coppia, superata la paura, si è recata presso il pronto soccorso dell'ospedale di Roccadaspide. L'imprenditore nell'aggressione ha riportato una contusione all'emitorace destro, ferite anche ai polsi e alle mani. L'episodio ha destato non poca preoccupazione. La presenza di grossi animali che sfuggono al controllo dei proprietari rappresenta un serio problema. Non è la prima volta che l'imprenditore 54enne si ritrova con un toro nel terreno di sua proprietà.